Il Cirque du Soleil arriva a Lucca. La nostra città infatti è stata scelta per la prima tappa del tour europeo dello spettacolo che vedrà salire sul palco i migliori acrobati e performer dei più famosi show del mondo e del Neuver Cirque. L'evento è stato presentato a Palazzo Orsetti dal sindaco Alessandro Tambellini, insieme al direttore di creazione Gian Piero Garelli, il vicepresidente a group Roberto Forcherio e l'artista Onofrio Colucci, anche direttore artistico delle Cirque. Un appuntamento emozionante tra sogno e realtà che sorprenderà il pubblico lucchese e che si terrà presso il piazzale Don Baroni dall'1 al 3 aprile prossimi. Le Cirque du Soleil, che si ispira alle atmosfere della letteratura fantastica dell'Ottocento, si esibirà con incredibili numeri e affascinanti coreografie firmate dal maestro Ugo Nespolo e le musiche originali composte dalla fan Piège. Il gigantesco tendone di uno dei più magici circhi del mondo è pronto ad ospitare fino a 2000 persone ad ogni spettacolo e la prevendita dei biglietti avrà inizio il prossimo 8 febbraio tramite il circuito di Viva Ticket.